Ciao amici di Italia Top Games, con un filo di voce, con un filo di voce però voglio farvi vedere Back 4 Blood da oggi per chi ha ordinato la Deluxe Edition può giocare in anteprima rispetto ai giocatori che hanno preso la standard in cui si potrà giocare da martedì 12 ottobre gioco per Playstation 4, Playstation 5, Xbox, tutte le Xbox questa è la versione Xbox Serie E streammata su PC per registrare in fretta e farvelo vedere appena possibile se no su Playstation ci vuole sempre tanto a incodare i video allora giochiamo al tutorial, vediamo, poi andiamo online, vediamo un po' com'è questo Back 4 Blood vi ricordo che su Xbox è possibile anche giocarci tramite il Game Pass da questo momento ragazzi io taccio perché la mia voce è pochissima vi lascio a Back 4 Blood e poi se mi scappo ogni tanto qualche commento lo faccio ovviamente giochiamo Walker? Chris? It's good to see you Chris? Mom Long time no see I was beginning to think you weren't coming No more freebies, Red You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips Yeah, I'm done playing soldiers for him You should be too Come on, Chris Don't tell me you're still falling for his BS Especially after what happened to Jason Don't bring my son into this Look, you know how I feel about Phillips But he's right about one thing This is a war The generals just clinging to the glory days There's no chief left to hail to Not that I'd want to Look, I get it No, you don't Okay, we're surviving here Rebuilding Surviving's not enough We've got to fight No, we don't need to do anything All right, when was the last time you saw Ridden in any numbers? Hmm? Aye, aye Move, now! Zombie Ucciderli Semplice, no? Anche questa cosa Fat ride solo sotto l'intelino Italiano, che troppo Oh, yeah Ay, ay Oh, yeah I love Mondays Haha No shit Hey I got this Ay, ay Fa un po' residente Ci vuole, ci vuole Andata bene Ok, bella presentazione Bella animata Adesso vediamo un po' questo tutorial Andiamo a Walker Mi è sembrato uno tosto Difesa Ok Andiamo a inventare Ok, questo che sono? Munizione, munizione, munizione Stiamo a usare artiglieria 60 Ok Mi pare che non ci sia nessuno Lo vediamo qui Ecco Abbiamo fatto fare tutti C'è qualcosa, si Ok Ecco, gli amo Ecco, gli amo Speriamo l'Uzzi Uh, che bello C'è pure il difuntatore laser Oh, quanto amo l'Uzzi Buon tanto lo amo Perché qui Abbiamo un'altra cosina Salute Speriamo l'Uzzi Speriamo l'Uzzi Ok 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 oh ok 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 che c'è? questo zombie mi sembra mi piace luci mi piace attenzione per il support grazie ah 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 adesso adesso ah adesso è morto ah 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 eh beh deve essere l'ultimo livello non si scherzo però ok ok molto bene wow cosa cosa c'è qui? cosa c'è? cosa c'è? molotov tiralo ecco eccolo ahia sorry come on ovviamente quelle evidenziati sono i punti deboli del simpatico mostrino ecco 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 simpatico ecco 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 simpatico il classico ritardatario eh il titetto stava fermo che bello proviamo proviamo la marcia qui siamo qui siamo ecco non prendiamo un secondo non sarà bene wow hell yeah è tempo quando arriviamo come on riusci guardate guardate l'acqua ok occhi occhi rilasci ammio qui e non mi ricordo cosa faccio apprezzato apprezzato scendiamo scendiamo torniamo un po' all'ultimo mi sembra un po' più meno coreografico che bello eccolo scendiamo ma molotov ahiaia rimbalzato ok stannacca gli ha fatto bene al fin mi stanno attenerando qualcuno mi aiuta per favore allora supporto niente ci ha usato tutto mi sa di sì no forse questo affare lo 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 vediamo come utilizzare come utilizzare no 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 è abbastanza scena quando esplode voilà l'ho messo ok ok a questo punto attenzione che è che se non vado a esplodere è proprio un uggito troppo grande non che assicurato che che non il che 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 Ehi, dove stai scendendo? Sei ok? Bene Andiamo di qua? No Questo non si roba Ok, vediamo Tutta la casa Uh, che bello questo mitragliatore Però No, allora Andiamo Deve cercare andare Qui Qua Non è di qua Che fosse una mappetta Non è che c'è difficile Eccone un altro Allora Allora Speriamo Speriamo E qui sarà un bel massaggio Ma ragazzi È sempre una soddisfazione Che 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 I'm going to get them all fine close. Here, let me help you. Thanks, brother. Ok. Vabbè, loro sono i bot, ne ho uccisi 50, dai, posso accontentare. Ok. Allora, la partita. Vorrei provare online adesso. Credo debba fare per forza tutto il tutorial. Vediamo, vediamo. Eccoci qua. Questa è una sorta di hub del gioco. Questa è una sorta di hub del gioco. Allora, facciamo partita veloce. Facciamo. Non riuscite alla partita. Facciamo veterano, dai. Così. Così. Comunque, come avete visto, c'è pure tutta una parte hotline. Quasi quasi vi faccio vedere quella che risulta migliore. Scusate, ho chiuso troppo. No, sono entrato. Ok. Siamo online, eh. Siamo online, eh. Sì. Sì, non riuscite. Sì. a prendere il primitore e mi ha ucciso mi hanno ucciso abbandonano la pastiglia andiamo a vedere sull'offline che è meglio devo prendere un po' la mano allora ecco qui campagna veterano no incubo ah vabbè la campagna creo partita quindi questa campagna giocatore singolo continua partita ah è questo è il tutorial per singolo giocatore dai faccio un'altra missione e poi basta eccoci qua non 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 C'è un'esplice! Un'esplice! C'è un'esplice! 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 C'è un'esplice! non c'è un dato, ma bene Che problema è questo? Oh, il fucile è che andiamo Sì, guarda! I'll have you fixed up soon. This way! Ammo here! Ammo, if you need it. Oh, this is good. Looks like we got bigger problems to worry about than just the rhythm. Yeah, much bigger. Uh-oh. Need to reload! Loader, incoming! Cover me! Reloading! This bit is toxic! You okay? Fine, I'm fine. Uh, yeah. Just the excitement. That's all. Ah, they're hungry again! Thanks. Something's over there. Nope. We need to reload! What the hell? What the fuck? Cover me! Reloading! Exploiter! Sniper rifle, here! Can't have you bleeding to death now. Thanks, Molly! Can we? Ammo here. Ammo pounce. Reloading! Reloading! Damn, they're floating! I'm not being too late. Don't get any of your eyes. It's all aboard! Reloading! Reloading! come on man that shit hurts trying to get yourself killed keep your head on a swivel you're in deep shit cover me reloading watch out I'll be able to do this with one eye I'll be able to take it and it ends here I hope you enjoyed this video from Back 4 Blood version Xbox Series X the game will be available until October 12th per tutte le versioni per chi ha acquistato la Standard Edition al prossimo video ovviamente qui sul canale Italia Top Games ciao